Pennata di contagi in città e in provincia dopo alcuni giorni di tregua. Sono 92 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore nel capoluogo, mentre sono 369 in totale in tutta la provincia, 106 i pazienti positivi riscontrati a Gela. Non solo, ma si nota anche un aumento dei ricoveri, 47 rispetto ai 45 del giorno precedente in malattie infettive. Sono tre i positivi in terapia intensiva. C'è stato un decesso e un paziente di Caltanissetta che non è sopravvissuto al covid, era ricoverato in terapia intensiva. Sono 639 i positivi in quarantena domiciliare. A Caltanissetta 17 restano ricoverati in isseni in malattie infettive. Due sono ricoverati in terapia intensiva. 2877 in tutto i pazienti in quarantena domiciliare in provincia e non ci sono paesi al momento covid free.